Allora, mister Urbano, risultato di parità tra le due formazioni che hanno lottato fino all'ultimo istante per cercare la via della rete? Sì, su un campo anche molto pesante. Noi abbiamo fatto, secondo me, per 75 minuti molto bene. Devo dire la verità che l'ultimo quarto d'ora il Tolentino ha spinto molto e ha avuto qualche opportunità anche per passare in vantaggio. Noi oggi di più, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, non potevamo fare perché siamo venuti qua con grandissime defezioni, mancavano cinque titolari. Però chi ha giocato sicuramente si è impegnato al massimo, ha cercato di fare il massimo. Per noi sapevamo anche l'insidio di questa partita, sia per la qualità della squadra, sia per la situazione in cui si trova in classifica, il Tolentino, ma soprattutto per il campo perché noi allenandoci sempre sul sintetico avevamo preventivato che oggi trovavamo un campo così pesante che alla lunga lo potevamo pagare. Un punticino portato a casa che permette di rimanere lì, lì, nella zona play-off per quanto riguarda appunto il campionato? Io non so adesso i risultati degli altri campi, però in questo girone, ma in questa categoria, quando si muove la classifica va sempre bene. Mi hanno accennato qualche risultato, visto che sotto hanno aumentato il passo le squadre che stanno sotto e quindi non è mai facile nel girone di ritorno riuscire a portare punti fuori casa. Noi oggi ci siamo riusciti con sofferenza, ma a me piace quando la squadra sa anche soffrire e ci prendiamo questo punto con la speranza che in settimane riusciamo a recuperare qualche giocatore importante. Allora mister Zandini, tanta buona volontà, tante occasioni, peccato che il pallone non ha voluto sapere di superare la linea. Beh, veramente ha comandato lui oggi il pallone, ha rotolato male veramente e non siamo riusciti a buttarla dentro. Però io penso che i ragazzi ci hanno messo tutto quello che potevano metterci. In settimana sono preparati bene contro una madese che la classifica 31 punti parla chiaro, qualità dei giocatori ci sono da parte nostra. Abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere, abbiamo cambiato più volte atteggiamento tattico, ma anche abbiamo cambiato interpreti sull'atteggiamento tattico. Perché è una settimana particolare in cui dovevamo recuperare qualche giocatore che veniva da allenamenti un po' tra virgolette, infortuni e quant'altro. Vedi Tizzi e vedi lo stesso Zetti. Hanno recuperato, hanno dato il loro contributo al gruppo. Chi è entrato ha fatto bene, però è chiaro che il risultato non ci ha portato a quello che speravamo. L'impresa di espugnare le mura amiche ancora non è avvenuta, però non ci dobbiamo battere, dobbiamo essere forti e coscienti di quello che è ogni giorno questa squadra. Lavoriamo duro per poter arrivare a quello che vogliamo arrivare. I ragazzi hanno dato, queste tre settimane che sono arrivato, il massimo che possono dare. La società ci è vicino, i tifosi ci sostengono, ci vogliono aiutare. Chiaramente non è per nessuno in questo momento un periodo bello, tra virgolette, però se parliamo di negatività, allora chiudiamo la porta, non entra più nessuno, non parliamo più di calcio a Tolentino. Dobbiamo provarci in tutte maniere.